home tv serie tv stranger it ins 3 nel casta anche la figlia di uma turman edita nok stranger it ins 3 nel casta anche la figlia di uma turman edita nok una conferma e una new entry nella terza stagione della serie netflix con pria ferguson e maya tureman ok stranger it ins 3 nel casta anche la figlia di uma turman edita nok una conferma e una new entry nella terza stagione della serie netflix con pria ferguson e maya turman ok foto maya turman ok credit diritti d'autore ellius grace la terza stagione di stranger it ins arriverà su netflix non prima del 2019 ma la produzione continua a tenere alta l'attenzione su questa serie diventata un piccolo cult con sempre nuove anticipazioni i duffer brothers che l'hanno ideata infatti hanno annunciato una conferma e una new entry nel cast della terza stagione di stranger it ins pria ferguson torna nel ruolo di erica sinclair mentre maya turman ok debutta nel ruolo di robin cominciamo dalla novità maia turman ok che come il suo doppio cognome dice chiaramente è una figlia d'arte doppia visto che i genitori sono uma turman edita nok interpreterà un nuovo personaggio robin si tratta di una ragazza alternativa astuta e spiritosa allo stesso tempo che annoiata dalla sua routine quotidiana vuole aggiungere un po di emozione alla sua vita e ne troverà anche troppa quando scoprirà un altro scuro segreto hawkins maia turman ok ha partecipato come protagonista era la joe march nella miniserie piccole donne adattamento dell'omonimo romanzo classico di luisa may alcott accanto a angela lansbury emily watson e michael gambon la giovane attrice ha inoltre da poco concluso le riprese del film indipendente la di world diretto da amanda kramer e ha ottenuto il ruolo di mayna di joseph nel film charlotte sedicesimo in uscita la conferma della terza stagione riguarda invece pria ferguson che tornerà nei panni di erica sinclair la sorellina ostinata di lucas solo che questa volta sarà accompagnata da un folto gruppo di amici stanca di stare in disparte erica si imbarca in una vincente missione per salvare hawkins da una nuova inaspettata minaccia che incombe pericolosa pria ferguson è un'attrice statunitense nata ad atlanta in george e ha iniziato a recitare da piccolissima a quattro anni dopo aver recitato in piccoli progetti teatrali la svolta arriva grazie al ruolo nello show atlanta creato da donald glover da quel momento pria appare nello show pbs mercy street oltre che nella produzione vh1 day time divas con tichina arnold in stranger ithins 2 ruba la scena diventando nota al grande pubblico foto pria ferguson credit diritti d'autore viviana chavez ciao 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 ciao